ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale dato che è un po' che abbiamo mollato il nostro caro amico COD ho trovato nell'hard disk nelle vecchie registrazioni questa partita che avevo fatto una sera con il mio amico Maverick e dato che è abbastanza carina e appunto dato che è un po' che non postavo nulla su COD ho deciso di montarla velocemente togliere le parti un po' inutili e proporvela e io come al solito vi saluto vi ringrazio se state guardando questo video e noi ci vediamo sempre sul canale con tante belle cose ciao a tutti e non fate caso alle cagate che dico perché tanto non è in live ciao a tutti ma dai che ero già di là del muro va te n'affanculo figa padonna quando si desincronizza così oh gli sbusti io 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 tranquillo sono sempre se fottiche il parecce niente vulcan ma va a cagarete il vulcan aspetta aspetta è coperto mine che lancio il vulcan xs1 vulcan alleato in arrivo qualcuno è andato è solo che non c'era nessuno ne ho mangiato uno e basta ho vendicato ma uccisione confermata manca poco il warboard manca un'uccisione hai fatto bene per ringraziarti ti inculerò ti inculerò una kill molto presto sappi che è la mia specialità dai cazzo no 15 punti mi mancano qualcuno vada a prendere la mia piastrina di breve aiuto non c'ho paura io no non ci credo no figa se muoio adesso a 15 punti ok warboard vaffanculo lancialo warboard alleato in volo mamma mia è arrivato il warboard si prendi 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 ruba tutto ruba tutto madonna quanti cazzo di punti mi hai fatto fare no ho sbagliato figo c'ho due colpi ho bisogno di un'arma ma eh niente ho finti colpi ma è già andato via il warboard veramente uccisione confermata sono al cortile uccisione confermata uccisione confermata drone ricognitore in campo lo devi guidare andare a segnare i nemici esatto è indecente ma no figa boh adesso mi vendi qua uccisione confermata uccisione confermata si infatti io quando mi capita lo lascio lì lo lascio lì lo uso come trappola esatto talmente bello che no vaffanculo facca ricarico quando non devo figa c'ho 45 poiettini nel caricatore e ricarico ma che cazzo che vizio di me bombardamento alleato imminente abbiamo perso il comando uccisione confermata no ma dai ma muori figa controllo perso non è possibile ogni tanto si sminchia però questa te l'ho regalata un po' per uno eh vabbè me la sono ripresa niente beh un assist si cioè un uccisione l'hai fatta ti ha mai dato l'assist ci stavano sparando di te no? allora l'hai inculata il terzo in comodo merda c'è un coglione ma guarda che camper del cazzo un deficiente con il cannone laser uccisione negata si quello rosso lì che non si sente rompe la micchia arriva un approvvigionamento nemico uccisione confermata uccisione confermata uccisione negata uccisione confermata uccisione confermata uav alleato online uccisione confermata Approvvigionamento pronto Uccisione confermata Devo ancora capirlo sinceramente Lancio di approvvigionamenti Ricognizione UAV in attesa UAV alleato in sorvolo Perdiamo la battaglia Dai che è diventato B-Shot Nooo cazzo Mi mancavano una Ci hanno fatti neri Non succeda più Nooo Sono i punteggi dell'amore stasera Oh io Stasera sono Nooo 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 Nooo